Bentornati all'appuntamento quotidiano con le ricette di Rete 8 quella di oggi è una puntata davvero speciale perché abbiamo l'onore di avere qui in trasmissione lo chef più famoso e più richiesto del momento il nostro Marco dei Quattro Santi insieme al suo inseparabile assistente Cristiano Grazie Gianni per il tuo invito oggi vi preparerò un piatto veramente unico un piatto della nostra tradizione cruzese rivisitata in chiave moderna questo piatto si chiama trionfo di... si chiama trionfo di... si chiama... ho dato un foglietto, ho dato un foglietto ho dato un foglietto in tasca ho dato un foglietto in macchina ho dato un foglietto ho dato un foglietto ho dato un foglietto trionfo di carboidrato morbido in crosta croccante con guarnizione di sprentura dorata di bacca di olea europea ecco qua chef complimenti prego prego ma hai sentito una cosa del genere? iniziamo il piatto allora dobbiamo prendere del pane ovviamente tutti sapete che il pane nasce e cresce e si sviluppa in forma di pagnote però noi per esigenze televisive abbiamo preso già affettato eccolo qua oh ma è il tionfo eccolo qua e poi abbiamo bisogno dell'ingrediente principe che qui in Abruzzo chiamiamo olio erbo in Abruzzo chiamiamo olio erbo Eccolo qui, eccolo qui, eccolo, guardate, come potete ben vedere è conservato in bottiglie un po' più scure del normale per poter proteggere il prodotto, tutte le sue proprietà idroelettriche, capite? Quindi è una fantastica cosa. Chef, mi perdoni, forse lei voleva dire proprietà organolettiche? No, no, perché è un liquido questo, quindi idroelettriche, lo primo non ha il suo lavoro. Prendiamo olio abruzzese, come abbiamo detto, giriamo in modo onduratorio e sussuttorio tutto il prodotto sul pane e voilà, il piatto è pronto. Marco, ma questo è pane e olio, ma che ricetta è? Ma questa è una trasmissione di grandi cuovi, celebriamo la tragetto, ma stiamo scherzando. Come abbiamo d'oro? No, no! Io vi aspetto tutti i giorni con i veri cuochi della Cucina Abruzzese, su Rete8 Chef in Cucina. Grazie.